Gran turismo da leggenda, Ferrari GT 164 Limited Edition, preziosi e inediti gioielli di modellismo in scala 164. Abbonati subito su centauria.it, riceverai le prime sette uscite con uno sconto speciale. E solo per te un fantastico regalo, in più con l'offerta premium, tre esclusivi modelli. Abbonati subito su centauria.it